Ho casa piena di cagate salate, che a me non piacciono, quindi ospite, perché almeno lui potrà dirci se sono buone o meno. Tutto preso sul cibo USA, Alice Pizza 12 per avere lo sconto, poi più che preso, imposto diciamoci, imposto perché mica le ho scelte io queste robe. Me le ha mandate, da cosa partiamo? Takis, takis! Abbiamo ben due takis, due noccioline, uno flare e l'altro fuego, non so che differenza posso avere. Rompiamo il po'. Sono uguali? Queste sono più rosse, no, sono molto simili. Io vado col flare, tu vuoi col fuego? È una ragia, è piccanto, in fin d'altro i sensi, diciamo a cambio, per me già è piccanto proprio. Io non ho capito. Questo è buono. Io assaggio la piccanto. Questa è buona. Ma come? Per me vince flare, perché vince fuego? Per me vince la fuego, perché almeno è piccante, questa per me non sa di niente. Per me vince la flare, perché più sapore, più salata e meno piccante. La fuego è troppo piccante. Il fuego è buono, poi me lo mani di nuovo. E anche io mangio la flare. Da che siamo in piccante. Pure questo è piccante. Chili chips. C'è il limone? C'è il lime. Ah, c'è il lime. Sento moltissimo il lime. Io sento molto piccante. Mi ha dato te. Va bene, per me è troppo piccante. Ah, è vegano, lo sapevi tu? Le patatine sono piccante. Patatine vegani, ragazzi. Ok, il giorno. E no palm oil. Per me non pizzicano tanto, ma sanno molto di lime. Per me pizzicano tanto e sanno anche di lime. Non sono male queste. Ma ora è il peggio del peggio. Questa è una barretta proteica al caramello e peperoncino. Ammesso che caramello voglio dire caramello. Caramello, vuol dire caramello? Credo di sì. Perché dovrei mangiare una barretta proteica? Così. No, lo sappiamo. Perché sì, per i muscoli. Morbidosa. Ah, i muscoli. Sa di merda di cavallo come tutte le cose proteiche. Sì. Mmm. Oh. Mmm. Fa di caramello un sacco. Buono. Mmm, proteica. Allora no, sa di merda di cavallo. Un po' sì. Eh. Però sa di caramello. Ah, più di così non se ne può mangiare. Vebroncino? Ah, ecco, l'ho sentito io. No, io lo sento. Sì. Io che sono sensibile. Eh, non è male. Eh. Cioè, boh? C'è qualcosa di non piccante? Questo. Per pulirsi la bocca, Cheetos al ketchup toast. Per me la cosa più piccante per ora sono le fuego, però mi sta colando il nero, quindi. Ah, ma questa è marca Hot Cheap. Il peperoncino c'è da per tutti. Cheetos normali. Il peperoncino con una forma diversa. Ma lo senti il caccio? Sentivo più l'odore, ma che uso io. Ma io ho tutto il peperoncino in bocca, non sentirò. Vincitore? Hot Nut Zuzza Flea, araflare. Ah, io guardi qua ti scrivo la barretta proteica. Eh, va bene. Perché? Perché è la più piccante. Perché è la più piccante, guarda. Però anche questo non so proprio perché. Che tre pro le fuego. Le fuego. Che piccante sta roba qua. È piccantissima. Caramellosa e nerdo di cavallo. Che piccante sta roba qua.